Buongiorno, in questo video approfondiremo l'aspetto della prevenzione nell'educazione salesiana di Don Bosco. È necessario cominciare con un evento fondamentale per la storia del secolo XIX che sono le guerre napoleoniche e la precedente ovviamente rivoluzione francese, perché la logica di un certo tipo di prevenzione è legata proprio al congresso di Vienna e a una generale inquietudine preventiva del periodo della restaurazione che possiamo collocare soprattutto tra 1815 e 1848. Il congresso di Vienna con i suoi equilibri politici ha stabilito un certo modo di guardare la prevenzione, soprattutto in campo sociale, politico, ma anche con un certo uso dell'elemento religioso. Infatti gli equilibri politici si sono accordati a livello europeo attorno all'idea di un cristianesimo che equilibra tutte quelle tensioni percepite negative verso la rivoluzione. Non andiamo ad approfondire di più, vediamo adesso brevemente le due correnti. Una stabilita da un concetto di prevenzione difensivo-repressiva. Da dove parte? L'idea fondamentale è una salvaguardia dei buoni, dei sani, cosiddetti ragionevoli, contro il pericolo che rappresentano i cosiddetti devianti e in misura ampia anche diversi o non standardizzati, che anche solo ipoteticamente potrebbero minacciare l'ordine sociale, tutti questi, perché c'è ancora un'idea molto razionalistica di un ordine sociale che è fatto con idee chiare, distinte, buone e quindi la ragionevolezza non quella di Don Bosco ma piuttosto quella illuministica che è un po' la guida. Un altro aspetto è che qui il punto di vista è della società, la società che si difende contro gli influssi di chi è marginale e quindi sono poi criminali, rivoluzionari oppure le prostitute, i poveri, i vagabondi, i mendicanti, però anche i diversi come malati mentali, handicappati, fisici, psichici, così. Così tutti questi in qualche modo con il metodo soprattutto della segregazione dovevano essere allontanati. Quindi c'è un'idea abbastanza forte di ordine sociale che crea una certa standardizzazione. Non siamo ancora nell'epoca del secolo ventesimo, ventunesimo con i studi di sociologia oppure anche con un'idea di persona umana, con i diritti umani e anche a livello di chi plasmava un'idea di società non c'è ancora il diritto al voto così diffuso, quindi c'è sempre ancora un'idea abbastanza forte dei diversi strati degli aristocratici, quelli che sono irragionevoli, quella elite che decide per gli altri. Infatti potremmo scegliere come un rappresentante di questa corrente, Voltaire, il semplice motto, no? Tutto per il popolo, quindi l'ordine sociale, il benessere di tutti, però niente attraverso il popolo, non per mezzo di una loro azione libera, partecipativa o coinvolgimento del popolo, no. Noi, ragionevole, illuminati, lavoriamo per il bene degli altri. Ovviamente stiamo semplificando perché ci interessa soprattutto un quadro mentale, un modo di ragionare, che è riscontrabile sia nel razionalismo che poi più tardi il luminismo e più tardi ancora, anche nel ventesimo secolo, il positivismo. Quindi un modo di ragionare per grandi insiemi, piuttosto scientifico, razionalistico. E quindi c'è un procedimento logico in questo paradigma preventivo. E si parte da un'intrinseca razionalità dei sistemi sociali esistenti, quindi una logicità anche delle gerarchie, dei procedimenti e dei modi di governo. E quindi chi non accetta questa razionalità è un irrazionale patologico e in definitiva ha un comportamento che è ingiusto verso quello che è il bene, che possiamo conoscerlo con la ragione. E quindi sarebbe anche ingiusto non accettare l'ordine sociale che è percepito come razionale, quindi buono. E quindi povertà, vagabondaggio, mendicità, disoccupazione sono quasi o anche di per sé già definitivamente presi come un comportamento colpevole. Perché uno, almeno nella semplificazione di questa mentalità, quasi con il suo comportamento sceglie di non accettare l'ordine sociale e il suo posto nella società e quindi è colpevole di tutte quelle forme che non rientrano nel pensiero della società fatto dagli illuministi o altra gente, gli ingegneri sociali. E siccome sono colpevoli è ragionevole adottare misure difensive e repressive. Così i sani buoni ragionevoli si difendono. Potremmo dire che questo tipo di mentalità ha diversi limiti ovviamente. C'è proprio un'assenza totale per la preoccupazione dell'aspetto promozionale. Non si sta pensando a un intervento per migliorare la situazione di quei diversi devianti o colpevoli. Poi ovviamente ingiusto anche il privilegiare l'interesse dei minacciati e ignorare il destino dei cosiddetti prevenuti. Quindi non c'è molto rispetto della libertà, dei diritti umani. E poi un altro limite è che non lavora sulle cause della devianza ma lavora soprattutto sugli effetti negativi. Quindi arriva sempre dopo. Quindi è una prevenzione, non propriamente detta prevenzione perché arriva sempre dopo. È prevenzione per un futuro sviluppo della società. Quindi una mentalità di questo tipo. C'è invece un'altra ed è la prevenzione promozionale ed assistenziale che ha un altro punto di vista. Parte dal concentrarsi sul ruolo e sull'importanza del marginale stesso, della persona singola e non tanto sull'emarginazione. E quindi in qualche modo permette di superare quel rischio dell'ideologia razionalistica e della strumentalizzazione delle persone. E qui ovviamente si capisce come è importante la dimensione educativa di questa azione di prevenzione. E quindi la finalità di questi interventi era di incidere sulle cause soggettive ed individuali della marginalità sociale. Chiaro, ancora non siamo a livello di studi sociologici su diverse dinamiche e l'interdipendenza dell'ambiente, della libertà individuale. Quindi c'è qui anche una sovravalutazione delle possibilità dell'individuo. Però già siamo in un modo di prevenire molto più rispettoso delle persone. Quindi con i metodi di beneficenza, di assistenza, anche l'organizzazione della cooperazione tra diverse persone come per esempio il mutuo soccorso, le piccole assicurazioni per la previdenza sociale o di salute che non era garantita dallo Stato. E quindi poi anche l'educazione, soprattutto in tutte forme di istruzione, addestramento, formazione professionale, terapie, iniziazione religiosa anche con la sua dimensione educativa, animazione del tempo libero, diversi tipi di ricreatori. Non parliamo ancora di associazioni sportive che arrivano solo nel secolo XX. Diventa interessante approfondire qualche principio anche filosofico di uno sfondo di queste concezioni. Potremmo menzionare Jean-Jacques Rousseau con la sua concezione di un ottimismo antropologico per quanto concerne l'individuo. Però un pessimismo per quanto si può applicare alla società che è vista come la causa di tutti i mali, se semplifichiamo. E quindi quell'ottimismo di per sé c'è, però ancora siamo lontani da una visione anche promozionale, in quanto c'è un certo paternalismo che di per sé responsabilizza chi è più fortunato, quindi gli aristocratici o i strati più alti della società, e questi sono chiamati a muoversi per agire in favore degli altri. Quindi c'è già l'assistenza delle persone, però con un atteggiamento di assistenzialismo che potremmo definire come un intervento che considera il marginale e il deviante come oggetto di cura, aiuto, sostegno di tutti quegli interventi che abbiamo già menzionato, ma non come soggetto della propria emancipazione. E quindi qua, anche come elementi un po' più critici, possiamo notare una scarsa avvertenza circa i processi di emarginazione, per i quali si cercava di esercitare qualche forma di intervento preventivo, questo sì, però mancava tutto un background di studi per capire come funzionano le dinamiche, per esempio tutta la dimensione del territorio, i sistemi sociali, con le loro dinamiche non proprio lineari, anche diversi paradossi che poi sono stati approfonditi nei secoli successivi. E in un certo modo, come ultimo limite, potremmo anche vedere una certa deresponsabilizzazione dell'individuo, che vede che c'è un'attività in corso per il suo bene, ma non è richiesta di per sé. Una partecipazione sì, ma non una coprogettazione o una partecipazione attiva. E quindi abbiamo queste due scuole di pensiero che erano piuttosto implicite, non è che c'erano correnti a livello esplicito che si studiavano così alle università, erano più le tendenze. Tutte e due, alla fine, girano attorno alla domanda fondamentale quali sono le cause vere? Cause vere del malessere, della problematicità, della diversificazione, stratificazione nella società. Ovviamente Don Bosco non si pone questa domanda o questo tipo di domande perché non è un teorico filosofo, ma lui comincia a immergersi nella realtà concreta della città di Torino e comincia a fare delle sue sintesi, che sono piuttosto pratiche, organizzative, di interventi concreti. Vediamo allora alcune sintesi che propone. Però prima penso che sia giusto capire alcuni influssi che sono stati esercitati su di lui proprio per il contesto di Torino. E quindi c'è un clima ovviamente di operosità preventiva, soprattutto durante gli anni dei suoi studi nel convitto ecclesiastico, quindi subito dopo la sua ordinazione sacerdotale, dove anche il modo di insegnare la morale, la catechesi, la oggi diremmo teologia pastorale, era teorico pratico, quindi anche con dei tirocini nei carceri di Torino, con la catechesi al popolo, oppure nelle opere della marchese Barolo, che lavorava con diverse istituzioni per educazione e rieducazione delle ragazze, oppure istituzioni già consolidate, come per esempio l'opera della mendicità istruita, che cercava di dare qualche competenza lavorativa proprio ai mendicanti. Non sempre era proprio una scelta libera loro di partecipare, era qualcosa in mezzo tra un'istituzione di formazione professionale e un carcere più o meno. Abbiamo poi altre tipologie di influssi che sono piuttosto mediati dai contatti con le persone, con gli educatori pedagogisti di tipo preventivo. Possiamo nominare Antonio Rosmini, con le sue concezioni anche teologiche, anche di una certa riforma del vivere l'appartenenza ecclesiale. Poi altri come Ferrante Apporti, che è molto più concentrato già sulla pedagogia in senso esplicito, di per sé è una persona interessante perché prende proprio il principio preventivo con tanta serietà e quindi il tipo di mentalità è che se è importante quello che viene prima, allora è proprio cruciale di cominciare ad educare subito dagli inizi e quindi di lavorare con i piccoli, con gli infanti, con i bambini e quindi sviluppa la sua proposta proprio di asili, di kindergarten. Poi c'è un altro tipo di gruppo che si raduna attorno alla rivista educatore primario e dove ci sono diverse conversazioni su questioni educative. Questi percepiscono anche l'oratorio di Don Bosco, c'è uno scambio di opinioni, anche se Don Bosco non scrive articoli per la rivista, però in contatto e dialoga con diverse concezioni. In più ci sono influssi di opere soprattutto di ambiente francese, quindi di alcuni autori che poi hanno esercitato anche influssi nelle teorizzazioni di Don Bosco. Quindi come soprattutto alcuni religiosi, come il Montfat, frate Agaton, oppure il vescovo di Orlean, Félix Dupandu. Quindi è interessante vedere queste tipologie di influssi perché è proprio il contesto degli anni 40 e poi anni successivi di Torino che aveva in sé già una certa logica preventiva. Don Bosco poi declina questa generale passione preventiva in alcuni punti chiave della sua mentalità. Penso che come una base potrebbe essere un'idea tipica della restaurazione di un fondamento religioso dell'ordine sociale e quindi che c'è alla base di un equilibrio sociale, di una convivenza pacifica, ci sono i valori, i valori cristiani e religiosi. Io ho scelto questa incisione che fa vedere il Duomo e il Palazzo Reale di Torino, proprio un'unica struttura architettonica, quasi per essere un simbolo di quell'alleanza tra trono e altare tipicamente piemontese, che poi con 1848 ovviamente è andata a perdersi per creare altri tipi di equilibrio. E quindi Don Bosco si inserisce, condivide questa ansia di prevenire mediante processi educativi e questa educazione è intesa come un ricupero individuale per una rigenerazione sociale. Quindi attraverso l'opera sull'individuo noi rigeneriamo pian piano, a lunga durata, tutta la società. Quindi non è così importante incidere su cambiamenti strutturali, sociologici, quanto alla trasformazione morale e religiosa delle menti e dei cuori, dei singoli. Per lui la categoria di persone che sono importanti e che sente anche la chiamata di intervenire, sono i giovani poveri abbandonati e poi un concetto tipico suo pericolanti, che esprime proprio anche questa tensione preventiva. Sono giovani che si trovano, oggi diremmo, a rischio nelle strade, nelle situazioni di un certo svantaggio sociale delle classi popolari, quindi non ancora devianti, ma a rischio nelle condizioni non facili di vita. Senza istruzione, senza lavoro, esposti al vagabondaggio o alla devianza, perché pericolanti ogni tanto parla anche dei pericolosi, quindi chi ha già strutturato magari un comportamento deviante. Questi sono il suo target. Poi è interessante come, anche con molto realismo, Don Bosco di per sé, attorno anche all'idea di un fondamento religioso dell'ordine sociale, percepisce una certa diffidenza o la sviluppa verso i mutamenti repentini degli ordinamenti politici, economici, governi che ci sono, cadono, tante cose cambiano. Lì non c'è la stabilità, quella proprio a lunga durata per creare un'idea per cui, un'idea di società. Quindi lui ancora si basa su un'idea di una società cristiana con i valori e anche con alcuni equilibri che vanno indietro agli anni della sua formazione di chieri o del seminario dei primi anni a Torino, degli equilibri tra Chiesa e Stato. E così sviluppa poi, dice Braido, il nostro autore per il corso di Sistema Preventivo, che Don Bosco quasi prevede utopicamente un movimento su scala mondiale di una convergenza delle più svariate forze sociali, morali politiche, ecclesiali, per una realizzazione di un progetto globale di salvezza della gioventù, però non rimane solo lì. Chiaro, la singola persona ha la massima importanza e attenzione, però Don Bosco va anche oltre. Attraverso loro vuole rinnovare proprio la società anche il cristianesimo. Quindi vediamo come non c'è questa polarizzazione, come invece si può percepire nelle due scuole di prevenzione che o si guarda la società o si guarda l'individuo. Per Don Bosco le cose sono anche un po' più congiunte. Potremmo parlare di una metodologia preventiva piuttosto concreta. E quindi Don Bosco anche nei suoi primi anni dell'oratorio aveva questo tipo di proposito quasi utopico, di elevazione integrale. Parlerei utopico nel senso buono, proprio degli obiettivi anche sfidanti e importanti. Quindi non solamente un miglioramento di alcune variabili sociologiche, ma piuttosto di andare verso l'eccellenza umana con chi lavora. Quindi un'elevazione integrale, intellettuale, professionale, fisica, morale, religiosa dei giovani. Questa attenzione all'integralità della sua proposta è visibile anche nella crescita delle strutture educative che propone. Si parte da un semplice catechismo, incontri di gruppo e poi l'oratorio che combina la ricreazione e le attività di educazione religiosa. Poi si integrano le scuole, l'internato e diverse proposte anche a massa per il popolo. Quindi più che una teorizzazione sull'integralità si capisce nelle attuazioni. È il modo tipico per Don Bosco. E quindi questa prevenzione per lui diventa quasi un sinonimo di una rigenerazione della società che sia capillare complessa, fatta di tanti interventi educativi, ma però anche rieducativi, perché i ragazzi cosiddetti pericolosi si integrano in un ambiente propositivo per essere recuperati, rieducati. Poi c'è una valorizzazione, reintegrazione dei giovani anche marginali, trovando delle modalità anche semplici, però nel suo insieme, l'insieme delle opere non era così semplice poi alla fine, perché una gestione dell'integralità educativa è sempre una questione complessa. E quindi potremmo parlare in un certo modo di una metodologia preventiva nell'operare quotidiano. È un po' meno evidente nei primi anni dell'oratorio, perché è solo un ambiente delle domeniche e delle feste. Invece la prevenzione diventa un principio, una linea rossa molto importante con lo sviluppo della casa annessa, che è l'internato. Quindi creando un mondo protetto in qualche modo. E Don Bosco fa questa scelta sia perché ci sono giovani che hanno bisogno di abitazione, ma anche per creare un ambiente che sia migliore rispetto a quelli dai quali provengono. Quindi un mondo anche protetto, propositivo però. Quindi la proposta di Don Bosco è preventiva, non perché è solo protettiva, quindi una visione negativa della società nello stile di Rousseau, però è propositiva in sé. Quindi prepara il giovane, lo protegge in momenti di vulnerabilità per prepararlo a un reinserimento nella società come un onesto cittadino capace, con delle competenze sia di cooperazione ma anche lavorative professionali. E quindi c'è un'antropologia cristiana che Don Bosco fa propria. La sua propositività parte di qua. Ci sono alcuni principi supremi di metodo, quindi ragione, religione, amorevolezza, la parte della razionalità e della ragionevolezza delle proposte, lo studio, la religione, i valori, le virtù e la spiritualità, delle motivazioni profonde e amorevolezza nella creazione delle relazioni personali. E poi crea anche degli stili di relazione educativa come assistenza o la familiarità, la gioia, la spontaneità. Quindi uno stile che non è fatto proprio solo di una progettazione che tende molto fortemente verso precise competenze professionali, ma è proprio uno stile di vita. E quindi così anche rientrano alcuni strumenti educativi e anche originali, almeno originali nel suo modo di percepirli come strumenti educativi. Il gioco, teatro, studio, lavoro, soprattutto tutto il gioco, il gioco e la spontaneità per Don Bosco non era solo uno tempo di necessario sfogo per poter poi riprendere le attività serie di educazione, ma era educativo in sé e inserito con molta armonia all'interno anche degli orari, delle sue istituzioni. Quindi qui un po' la proposta di Don Bosco, alcuni influssi su di lui che ha esplicitamente o implicitamente preso, inserendosi anche in una generale passione preventiva, sviluppando una sua metodologia concreta di prevenzione. E quindi possiamo riconoscere anche alcuni elementi pochi di per sé del primo metodo preventivo e della creazione per esempio di alcuni ambienti protettivi, però poi identificandosi molto di più sul intervento verso il singolo ragazzo, però non in un modo assistenzialistico e neanche demonizzando la società, ma sviluppando una metodologia propositiva. Penso che possiamo fermarci qua. Grazie dell'attenzione.